Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è chi calcio? Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. Sapete questa che cos'è? No, non è la forma della palla. È anche la forma della palla che non avete visto per 90 minuti. Ma è soprattutto il culo che vi abbiamo fatto. Ma non guarda le mani, guarda i bracci, come si suol dire. Guarda i bracci, non guarda le mani. Vi abbiamo fatto un culo così. Scusate per questo piccolo materialismo iniziale, ma dopo la partita d'andata vorrei prendermi qualche rivincita. Partita d'andata che è stata giocata egregiamente dalla Lazio per buoni 70 minuti e poi persa all'ultimo secondo con un gol da palla inattiva. Quindi volevo prendermi con questa piccola rivincita. La Lazio oggi ha fatto una partita meravigliosa, una partita perfetta, una partita pazzesca. Mi riesce difficile trovare un calciatore che abbia sfigurato o che non abbia sfigurato. Com'è che si dice? Comunque sono stato troppo tempo fuori dall'Italia. Però avete capito il concetto. Partiamo dai migliori in campo e sono tre i migliori in campo. Correa, prima di tutti. Leiva e Lulic. Leiva e Lulic. Leiva ha fatto una partita sontuosa. Sontuosa. Onnipresente era Leiva questa sera. Cioè si trovava in tutte le zone del campo contemporaneamente. Cioè ma mi spiegate com'è possibile? Com'è possibile? Che io poi l'ho criticato per la partita di Napoli. Perché era giusto criticarlo. Perché ha giocato male. Obiettivamente ha giocato male. Ed era già da un po' che faceva prestazioni deludenti. Ma qual è il discorso? Il discorso è che Leiva non può giocare ogni tre giorni. Non può giocare ogni tre giorni, ogni quattro giorni. Non ha l'età per farlo. Infatti a Napoli è uscito, se non sbaglio, all'inizio del secondo tempo. Quindi ha avuto l'opportunità di riposare per la partita di questa sera. Che ha dominato. Oggi l'ha dominato. Oggi ha dominato il centrocampo, Lukas Leiva. Così come è stato dominante anche Senad Lulic. Cioè veramente. Noi la facciamo facile. Dicendo bisogna svecchiare la rosa perché questi giocatori non si reggono in piedi. Cioè ragazzi ma avete visto che partita hanno fatto Radu, Lulic e Leiva questa sera? L'avete vista? Contro il Milan. Mica contro la squadra dei quartieri qua. Contro il Milan. Quindi non facciamola così tanto facile. Mio padre stava dicendo giustamente Fares dovrebbe imparare da Lulic. Dovrebbe imparare. Perché appena è entrato Fares abbiamo preso se non sbaglio due occasioni da gol lì sulla sinistra. Per delle azioni veloci di Dalot. Fino a che era rimasto in campo Lulic non era mai successo. Anzi. Partita meravigliosa. Ha giocato Correa il migliore in campo per eccellenza. Ha fatto due gol. Contro il Milan gli scatta la luce, gli scatta la scintilla. Questa partita dimostra quello che io vi dico da mesi. Il problema di Correa è che si impegna soltanto quando ha davanti una squadra importante. Nelle partite di cartello. Quando ha davanti una squadra strisciata. Ecco Inter, Juventus, Milan e aggiungo anche l'Atalanta. Infatti Correa ha fatto la differenza a Torino contro la Juventus. Anche se abbiamo perso. Ha fatto la differenza questa sera. Fa sempre la differenza quando giochiamo contro l'Atalanta. E ha fatto la differenza in Champions. Cioè questo è una cosa che va bene. Va bene perché comunque ci porta dei punti contro negli scontri diretti. Ecco nei big match. Però non va bene perché avremmo bisogno di più continuità da parte sua. Perché questo qui è un giocatore che quando si impegna. Che quando si impegna quando è in partita. Con la testa in partita. Ragazzi è imprendibile. È imprendibile. Oggi l'ha dimostrato. Cioè Tomori non ha visto palla poverino. Il grande Tomori è saltato dalla stampa italiana. Non ha visto palla poverino. Cioè avrà bisogno di qualche giorno per riprendersi da questa partita. Così anche come il grande Simon Kier. Quindi grande, grande Correa, grande Correa. Magari così fino alla fine del campionato. Magari così fino alla fine del campionato. Iniziando dalla partita contro il Genoa. Che non è strisciata. Però è comunque una partita importante. Anche Immobile. Grandissima partita. Si meritava quel gol sul pallonetto. Che è stato davvero sfigato. Immobile è veramente sfigato. Ha preso un sacco di legna anche quest'anno. Poi però il gol l'ho trovato. L'ho trovato spaccando quella maledetta porta. Mamma mia quanto mi piace quando un calciatore prende palla e spacca la porta. E scatena tutto, lascia andare tutta la verve, tutta la cattiveria agonistica che ha in circolo nel sangue. È una cosa che a me fa impazzire. Fa impazzire. Oggi Correa ha spaccato la porta in occasione del secondo gol. Peccato per quel erroraccio nel primo tempo dopo l'1-0. Ha avuto quell'occasione al volo dove ha ciccato il pallone. Però non è che gli possiamo chiedere il mondo. Comunque, che minuto siamo? 5.15. Parlo velocemente degli altri calciatori. Luisa Alberto oggi a mezzo servizio non sembrava. Oggi Luisa Alberto a mezzo servizio non sembrava. Lui ha dato praticamente la palla per il gol del 2-0 di Correa. Aveva dato anche l'assist in occasione del palo di Immobile. È stato imperioso Luisa Alberto. Imperioso. Nonostante una forma fisica non eccellente. Cioè, veramente... Io non ho più parole davvero. Non ho più parole. Bravissimo anche Milinkovic. È entrato molto bene anche per Eira. Molto bene. Aveva dato quell'assist lì ad Akpa Akpro. Geniale. Davvero geniale. Ma è un calciatore che comunque... Alla Lazio-Serbe, secondo me. Poi, difesa perfetta. Difesa quasi perfetta. Hanno giocato benissimo tutti e tre. Radu Acerbi. E Mariusic, peccato per l'ammunizione di Acerbi, che comunque era diffidato, se non sbaglio. Quindi salterà. Mamma mia. La partita contro il Genoa. Mamma mia, la salterà. Oddio. Che incubo. Deve giocare Hutt. Bene, anche Lazzeri, che aveva segnato quel gol momentaneo del 2-0 per un fuori gioco millimetrico. E io non voglio che nessuno inizi a parlare qui sotto del secondo gol che era da annullare. Quello di Correa. Per il fallo al centrocampo di Leiva. Perché quello lì non è mai fallo. Non è mai fallo. L'intervento era con il piede sinistro. Leiva è con il piede destro che tocca appena il calciatore del Milan. Che cade e fa la sceneggiata. Quindi non facciamo i ridicoli per cortesia. Non facciamo i ridicoli che si doveva essere ammonito dopo tre minuti per una sbracciata in contropiede. Ok? Forza Lazio. Sempre per sempre. E dai così che la Champions si è riaperta.